Sì vabbè però che parla sta candela bada Immaginate di andare da una tizia a caso che non avete mai visto e iniziare a chiamarla bacca per tutto il giorno, tutti i giorni Ecco il culto di Nittera riassunto più o meno in questo Considerata la dea primordiale del tutto anche di Ra e delle acque da cui emergerà Venendo anche relazionata quindi a Nun personificazione degli uno degli otto elementi con cui era stato formato l'universo E' considerata anche una delle più vecchie, antiche, ecco antiche divinità esistenti Tant'è che molti dei gli chiedono consiglio E tra l'altro chi ha fatto incazzare Seth è stata lei perché insomma ha detto Horus è più fico Tu no, quindi ciao Vabbè nonostante sia considerata la madre di Ra e anche di Sobek non è mai stata associata a nessun consorte Per giudicare dei risultati possiamo anche capire perché Evidentemente la zoofilia in Egitto insieme all'incesto non era un reato Comunque Nitt fu rappresentata inizialmente come dea della creazione ma anche della caccia e della guerra E del caffè No, essendo che il suo simbolo era rappresentato da due archi e uno scudo o due frecce e uno scudo Questo rende chiaro perché su Smite Nitt sia un hunter Tuttavia non spiega perché poi in seguito Nitt viene considerata la madre mucca di Ra e Sobek E pure un sacco d'altra gente Immagino non ci sia di chiedere certe cose ad un popolo che considerava il sole una gigantesca palla di merda Spinta da uno scarabeo Ma vabbè Una particolarità piuttosto interessante di Nitt invece È che per via del fatto che non ha un consorte È considerata un essere androgino in grado di procreare senza immaginario sessuale Tuttavia continuo a dire che osservando come ogni suo figlio sia un animale E qualche dubbio si possa avere È anche vero che può aver partorito direttamente lei o fatto partorire l'animale Quindi pure la teoria dell'androgino non ci sta male Sta venendo fuori una specie di mostro devia a menti innocenti Vabbè insomma Questa androginia tra l'altro è un discorso che molte regine d'Egitto porteranno con sé La prima regina ad esempio sale al potere dopo la morte del marito E tra l'altro il suo nome si traduce esattamente come protetta di Nitt Cioè Mernit E non era per niente una pratica rara quella da parte delle regine Di usare o far usare su di loro titoli maschili Probabilmente per evitare eventuali critiche di un reggente donna Che non si sa perché è sempre stata criticata Ma vabbè il mondo è strano Sebbene non sia certo La prima ad usare questo espediente fu Sobek Neferu Cioè significa Sobek è come la bellezza di Ra Che è già il nome Cioè Ra doveva essere proprio un figaccione Per essere usato come paragone per un dio coccodrillo Ma ok Tuttavia la regina più interessante da questo punto di vista È Hatshepsut Che dopo la morte del marito fece carte false Nel vero senso della parola Cioè andò dal padre ex faraone E si fece mettere come correggente per poi prendere il trono direttamente Per salire a governare l'Egitto Non contenta E probabilmente uno dei primissimi esempi di disforia di genere Hatshepsut solleva vestirsi con abiti maschili Ed indossare una barba finta Tra l'altro desiderando essere chiamata re invece che regina E volendo essere appellata al maschile Se qualcuno sta pensando che qualche omofoba abbia avuto qualcosa da ridire Beh per 21 anni in cui Hatshepsut ha vissuto Nessuno ha detto niente E se l'ha detto non è vissuto il giorno dopo Anzi uno dei capocostruttori durante il suo regno Pare aver avuto sollazzi amorosi con la regina Anche se non si è capito chi abbia bombato chi Ma andiamo avanti NIT su smite come già detto è un hunter Ed è uno degli dei che vi vengono dati all'unpass Appena loggate per la prima volta Emblema degli hunter NIT può gestire non solo scontri uno contro uno Ma anche spingere la propria wave di minion E bloccare i nemici in diversi modi Questo fa si che NIT sia uno degli dei generalmente più facili da giocare E più flessibili La sua passiva è semplice Per ogni nemico che muore Un cerchietto di tela rimane nel punto dove sono morti per un minuto Le tele permettono a NIT di far avere un secondo effetto alle proprie abilità Spesso aumentando il danno inflitto O l'area ad effetto delle abilità stesse La prima abilità ad esempio Spara di solito una freccia di fronte a lei Che trapassa i minion E se prende un dio nemico Li pianta sul posto E questo effetto è chiamato root Cioè radice Radicare Fino ad un massimo di due secondi Se la freccia prende una tela però L'area ad effetto si espande E il danno inflitto aumenta del 100% Usare le tele durante un teamfight Assicura dunque un root A tutti i nemici coinvolti Spesso ribaltando totalmente Anche eventuali due contro uno A cui può essere sottoposta Dopotutto sono 320 danni Più l'80% di potenza fisica La seconda abilità invece Non solo gli permette di curarsi Ma gli permette di diminuire La velocità di attacco D'un nemico del 30% Guadagnandola dunque lei stessa E facendo così diventare All'abilità un vero e proprio modo Per ribaltare eventuali gank Di assassini o hunter avversari Scioglie le tele del mondo In un'area di 20 metri E oltre a fare 190 danni Più l'80% della vostra potenza fisica Si cura di 80 Più il 15% di potenza fisica E se nell'area c'è una tela piazzata Allora la cura aumenta Di 160 E il 30% di potenza fisica Non credo sia necessario dirvi Che curarsi ogni 15 secondi Di 240 più il 45% di potenza fisica Per voi che avete una vita Che difficilmente supererà i 2000 Significa un quarto di vita Recuperato ogni volta Dunque è l'abilità che potenzialmente Vi permette ai primi livelli Senza lifesteal Di avere il vero vantaggio su qualcuno Parlando di vantaggio La terza abilità è quella che Effettivamente piazza le tele Senza che nessuno muoia Un salto all'indietro Che fa 220 danni Più l'80% della vostra potenza fisica E rallenta del 25% I nemici Fino a 4 secondi e mezzo E piazza una tela Nel punto in cui eravate Quando avete saltato Non solo è un'ottima fuga Da qualsiasi cosa Ma è anche il modo principale In cui ribaltate i fight Se siete presi da un gank Sparate la terza Sparate subito La prima sul cerchietto a terra E BOOM Tutti stunnati E voi liberi di scappare O approfittarvene Come se le mancassero gli stun Inoltre L'ultimate di NIT È uno stun Che può arrivare Fino a un secondo e mezzo Ma quello che è molto più importante È che con 490 danni Più il 120% di potenza fisica La freccia che sparerà NIT Potrà essere sparata Attraverso qualsiasi parete o minion E cosa ancora più importante Voi non avete bisogno Di essere minimamente Intorno al nemico Per spararla In quanto basterà che i vostri minion O un vostro alleato Abbia la visione del dio nemico E magicamente Quando andrete a sparare la freccia Nell'obiettivo vi apparirà il dio nemico Avete presente quando ho detto Che è uno degli dei più facili da usare? Ecco La freccia è totalmente teleguidata Quindi appena voi Sparate nel mirino La freccia arriverà a destinazione Ora capite perché Ovviamente non serve dire Che con uno stun di un secondo e mezzo È spesso e volentieri Un ottimo modo per iniziare un fight Anche se vorrete magari Conservarvi l'abilità Per eventuali idee in fuga Che verranno impietosamente Trafitti dalla vostra Bastardissima freccia A meno che qualche eroe Non si mette tra voi e la freccia E quindi blocca L'esecuzione Sì Odio avere NIT contro Una build di NIT È essenzialmente una build Di qualsiasi hunter Ninja Tabby per la velocità di attacco E non vi consiglio i warrior Per il danno delle abilità In quanto comunque Non è questo vantaggio Che su NIT fa la differenza E lifesteal Non esagerato Anche un asi può bastare Data la seconda abilità di NIT Queste sono le due cose Di cui dovete preoccuparvi inizialmente Continuando poi aggiungendo Velocità di attacco Con i Shaival I Shaival come si dice Che se avete preso l'asi Tra l'altro Vi farà raggiungere 20 di penetrazione fisica Che non è per niente poco Oppure Executioner O Astened Fatalis O Witchblade O Kinsai Ricordate che Sugli Hunter È sempre molto situazionale L'oggetto con cui Aggiungere velocità di attacco E troppo spesso Ho visto la cosa sottovalutata Con build prefatte Se vi ritrovate Spesso contro un assassino O un Hunter avversario Infatti sarà più utile Una Witchblade Di un Executioner O di un Astened Fatalis Per il semplice fatto Che vi darà un vantaggio Nella velocità d'attacco E potenza fisica In quanto le ridurrà A chi vi è intorno E se fate i conti Con la vostra seconda abilità Vedete che raggiungete La riduzione Del 45% Della velocità di attacco Sparerete praticamente Al doppio Della loro velocità Come quinto oggetto Uno degli oggetti Che non avete ancora Preso sopra Indicato Con preferenza Per Executioner O Kinsai Se il tank nemico Vi sta dando problemi Anche se alcuni Potrebbero già iniziare A preoccuparsi Al penultimo oggetto Dei critici E dunque andare di corsa Verso la rage Che per quanto io Possa capire Come Come Scelta Lo trovo un oggetto Che può essere sostituito D'altro Specie dal Deathbringer Maggiore velocità D'attacco Significa anche Lifesteal Più spesso E danno più sicuro Mentre i critici Sono una probabilità Che per quanto diminuita Rimane sempre probabilità O aumentata Insomma Avete capito Come ultimo oggetto Se non avete ancora Il Deathbringer Fate un Deathbringer Ripeto Io non consiglio Due oggetti Per i critici E se li consiglio Spesso sono Deathbringer E Malice Che vi aumentano La forza fisica E vi danno comunque Il 40% Di possibilità Di critici Ma insomma Ognuno ha il suo modo Di giocare Ed io ho abbandonato Il rage Abbastanza presto Ciò non significa Che lo dobbiate Fare anche voi Alcuni oggetti Avevo dimenticato Avevo dimenticato Di dire una cosa importante Neat È uno di quei Personaggi Iper sessualizzati Che vengono usati Per attrarre nuovi giocatori Certo Con il senno di poi Posso anche capire Perché Dopotutto Penso che le Trapp Vanno bene Un po' per tutti Grazie